E' la prima volta che interpreto il ruolo di Quasimodo ed è un ruolo sicuramente inusuale, molto diverso da tutti gli altri che ho affrontato nella mia storia, nel mio repertorio, molto diverso dai principi del repertorio classico e anche da tutti gli eroi romantici. Quasimodo è veramente un personaggio unico, particolare e per me quindi una sfida direi, proprio perché è la prima volta che mi confronto con questa sua unicità. La sua particolarità sta ovviamente nel fatto di essere così brutto, di essere deforme, quindi di avere questa deformità fisica che bisogna creare con il movimento, cioè non c'è una deformità nel costume, non c'è una gobba, qualche cosa, è tutto un creare un movimento per dare la sensazione della deformità fisica. Ovviamente è molto difficile, non solo quando si balla, quindi quando si affrontano dei passi tecnici, anche ad esempio dei doppi salti, dei giri, riuscire a farli con un atteggiamento che non è quello dell'armonia, della compostezza, dell'equilibrio proprio fisico che studiamo e sul quale ci alleniamo ogni giorno. Ma anche nelle posizioni statiche, quindi anche quando nel balletto lui si rapporta con Esmeralda, con tutti gli altri e quando sta in scena in questa posizione è comunque molto impegnativo, perché è una posizione di squilibrio e mantenere questa posizione molto impegnativo. E c'è anche poi un'altra parte, un aspetto direi più psicologico e più emotivo anche per affrontare questo personaggio, proprio perché è la prima volta che lo faccio, quindi ho sempre affrontato dei ruoli del principe, del bello, dell'eroe romantico, come dicevo prima e mai un ruolo in cui invece la parte predominante fosse quello che è rifiutato, quello che è sotto di tutti, quello che è preso a calci e in qualche modo deriso da tutti. E quindi un personaggio molto particolare, perché al di là di questo, di questa poi esteriorità e di questa sua fisicità deformata, poi quasi in modo si rivela il personaggio più bello all'interno di tutta la storia, proprio per questa sua estrema sensibilità, questa sua interiorità così ricca, così variegata che viene scoperta ed è veramente il punto più alto e più poetico direi di questo balletto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. o come come un uro, ma come un personale, con cui c'è un сердце. Quindi, mi credo, che qui è questa prallezza, sono come donne, sono come un'attività, sono come un'attività, in questo è un'attività, questo è un'attività. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.